Allora, veniamo all'ultima categoria che è la mia categoria preferita, come vi ho sempre detto, che sono i coloranti in polvere. Anche qui lipo e idrosolubili, non cambia niente, ok? Gli unici che esistono solo idro per definizione sono i coloranti in gel. Per il resto abbiamo coloranti liposolubili e coloranti idrosolubili, sia che si parli di polvere sia che si parli di liquidi, ok? Le polveri sono indubbiamente, almeno per me, i coloranti più pratici in assoluto. Perché? Perché hanno un alto potere colorante e non vanno ad alterare le caratteristiche del prodotto sul quale state lavorando, ok? Quindi, tornando al discorso di Lorenza prima, la mia prima scelta quando devo colorare la pasta di zucchero è il colorante in polvere, va bene? È ovvio che adesso utilizzo i bee painting perché li ho fatti, li vendo, ce li ho, quindi sottomano, cioè se finisco il verde, ok? E devo colorare soprattutto una gran massa di pasta di zucchero, utilizzo le nostre tempere e non il colorante in polvere. Però il colorante in polvere per la colorazione della pasta di zucchero è sempre stata la mia primissima scelta. I coloranti in polvere idrosolubili vale lo stesso discorso che vi ho fatto per quelli liquidi, quindi per che cosa si usano? Pasta di zucchero, panna montata, glassa reale, per latte, panna, meringhe e via discorrendo. Soprattutto per le meringhe è particolarmente indicato il colorante idrosolubile in polvere perché non va ad alterare, soprattutto chi fa, no, non per le meringhe, per i macaron, scusato, sbagliato, per i macaron. Chi fa macaron saprà che è difficilissimo trovare il giusto equilibrio, no, per farli gonfiare ma non farli rompere, farli assumere quella forma particolare che il macaron deve avere. Il colorante in polvere idrosolubile è l'ideale per andare a colorare i macaron, proprio perché non va ad alterare la composizione e l'equilibrio del vostro impasto. Se avete dei coloranti idrosolubili liquidi, li potete utilizzare per i macaron, ma dovete tenere conto del fatto che state aggiungendo un liquido al vostro impasto, quindi magari mettete un pelino meno di acqua. Ciao Mary Jo, un bacio. Ok, quindi invece i liposolubili, i coloranti in polvere liposolubili, anche questi possono essere utilizzati per creme, creme a base di burro, masse a base di burro, quindi tutte situazioni molto grasse, va bene? Quindi ad esempio la crema al burro o quant'altro, comunque preparazioni che contengano un'alta percentuale di oli, ok? Anche per cioccolato e burro di cacao, ad esempio, va bene? Non è che dovete obbligatoriamente utilizzare il burro di cacao per colorare il burro di cacao, per colorare il cioccolato. O se avete del burro di cacao bianco e dovete colorarlo, con qualcosa dovrete colorarlo. Quindi l'ideale, cioè l'ideale, quello che dovete fare è utilizzare i coloranti in polvere liposolubili. Per rispondere alla vostra domanda, i coloranti in polvere attualmente in commercio, grazie Jackie Tania, Tania, sì, grazie, un bacio. I coloranti in polvere, l'80% dei coloranti in polvere che trovate in commercio sono liposolubili. Cosa vi stavo dicendo? Ah, che mi chiedete qual è il colorante migliore. Cioè, probabilmente esistono, secondo me i coloranti, soprattutto in polvere, si equivalgono abbastanza a tutti, ok? Sono certe più migliori o peggiori, però in linea di massima sono tutti molto, molto buoni. Allora.